Catanzaro non molla di un millimetro nella battaglia iniziata immediatamente dopo l'annuncio dell'istituzione del corso di laurea in medicina all'Università della Calabria. Secondo la consigliera comunale Daniela Palaia, questo è il momento nel quale la città deve dimostrare che il bene di Catanzaro è un valore supremo e superiore che travalica qualsiasi colore politico. L'esponente della città capoluogo di regione chiama in causa quella che definisce sponde politiche trasversali che hanno lavorato affinché primeggiassero gli interessi di pochi in danno della città. Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Catanzaro Fiorita che ha indetto una riunione del consiglio comunale aperta per discutere della vicenda e assumere tutte le determinazioni perché il progetto avviato e cioè quello di portare medicina all'Unical venga fermato. Nell'occasione, fa sapere ancora Fiorita, l'assise aperta tratterà anche della mancata attivazione dell'azienda unica d'Ulbecco.